Quando pensiamo alla nostra vita in città, spesso frenetica e piena di impegni, difficilmente pensiamo a tutta la biodiversità che ci circonda, anche proprio in ambiente urbano. In realtà sono molti gli animali che trovano nella città due caratteristiche molto importanti, e cioè protezione dai predatori naturali e una grande quantità di cibo. Infatti, anche nella caotica vita di un condominio, il tetto è spesso un luogo deserto per 365 giorni l'anno, ed ideale per un uccello per trascorrere, per esempio, l'inverno. In tutti i paesi del mondo è diventato di moda cercare di capire qual è la biodiversità che ci circonda in città. Dalle più grosse metropoli, come New York, Parigi o Tokyo, ai più piccoli paesi, c'è questa ricerca, utilizzando spesso la citizen science, di catalogare la biodiversità urbana. San Donato è perciò uno dei pochi paesi al mondo ad avere già un proprio atlante urbano degli uccelli, pubblicato dalla Lipu nel 1989, dove sono state censite più di 60 specie nidificanti e oltre 70 svernanti. Sta addirittura uscendo un secondo atlante, aggiornato anni dopo, in cui si possono rilevare delle sostanziali differenze, spesso anche legate ai cambiamenti climatici o alle trasformazioni del territorio. Stanno scomparendo, infatti, gli uccelli chiamati una volta comuni, come la verla piccola, come il saltimpalo o il stesso passero domestico, una volta comunissimo, mentre altre specie arrivano, come il colombaccio, come molti rapaci, come anche alcuni uccelli acquatici, un tempo rarissimi e ora molto comuni anche nelle aree urbane. Grazie a tutti.